Con l'apertura ufficiale del calcio mercato Enzo De Vito si appresta a lasciare la strada degli under per incamminarsi su quella degli over che prenderanno il posto di una serie di epurati. Almeno tre dei colpi importanti destinati ad essere esplosi nelle prossime due settimane che saranno tesi a puntellare la spina dorsale di una squadra in cui, dopo l'innesto del portiere Marcone, sono attesi un difensore, un centrocampista e un attaccante di provata esperienza ed affidabilità. Elementi di fascia A per la Lega Pro che potrebbero scendere in terza serie anche dalla cadetteria. Nel caso del difensore, ieri è stato approfondito il discorso con Adriano Galdiani del Monza. I briazzoli hanno in organico ed in lista di sbarco sia Giuseppe Bellusci che Luca Marrone. Con un incentivo all'esodo, Galdiani li ha messi a disposizione dell'amico De Vito che per caratteristiche e costi appare orientato a stringere il cerchio intorno all'ex Ascoli. Il vero colpo, a riprova che il DS di Capriglia è a caccia di un top player per la mediana da affiancare a Franco, è destinato però ad essere sparato in mediana, dove al confermato Matera si aggiungerà quasi certamente l'esperienza di derisio del Bari. Ecco perché lasciato Galdiani nella sua ultima tappa al nord, De Vito si è interfacciato sia con il DS Massimo Mirabelli del Padova che con Grimaldi, agende di Ronaldo Pompeu da Silva. Il 32enne brasiliano è un'uscita dai biancoscudati che intendono attuare una rivoluzione. Piazzato nelle scorse ore, chi ricò al Crotone, Mirabelli sta in questi giorni tentando di fare altrettanto col numero 10. In questo caso però la vicenda appare più spinosa perché Ronaldo ha un contratto fino al 2024, anche oneroso, e sta trattando la risoluzione. L'Avellino che appare davvero stuzzicato dall'idea di portare l'ormai ex capitano del Padova in Irpinia, si è pertanto scritto alla lunga lista dei pretendenti che vede in testa il Vicenza. Vista la complessità dell'operazione, difficilmente il nodo sarà sciolto nel breve periodo. Nel frattempo, nelle prossime ore, come confermato ai nostri microfoni dall'agente del portiere Fulvio Marruocco, Richard Marcone sarà bianco da oggi e domani verrà completato l'Iter, si sta procedendo alla risoluzione del contratto a Potenza. Molto probabilmente sarà il prossimo portiere dell'Avellino.